Per la minoranza fanese è un bilancio preventivo deludente, quello approvato venerdì scorso in Consiglio Comunale con il solo voto della maggioranza. Sono stati respinti, precisano i consiglieri, tutti i 1067 emendamenti presentati dall'opposizione. Lamentano inoltre un prelievo eccessivo delle Aset, oltre 400 mila euro in più dalle sanzioni stradali, una pressione tributaria troppo alta e poca attenzione ai risparmi. Meno al sociale e ai servizi educativi, dicono, e più al settore della cultura perché, secondo loro, il vice sindaco Stefano Marchegiani è il sindaco Ombra. Da una nuova amministrazione ci si aspetta una progettualità e delle novità, ha sottolineato l'ex sindaco Aguzzi. È vero, ha aggiunto che la giunta serie lo scorso anno ne ha approvato uno in parte ereditato dalla giunta precedente, ma per quest'anno avevano promesso un bilancio innovativo e invece ha prodotto soltanto operazioni di assestamento dei tagli subiti. Abbiamo visto un sindaco molto impacciato che ha cominciato a parlare dei tagli subiti dal governo e dei tagli subiti dalla regione e dal fatto che ha dovuto cercare i soldi là dove si potevano trovare. Ma non ha messo nulla in campo, tant'è che non si capisce che progetto hanno sul turismo, non si capisce che progetto hanno sulla piccola impresa, sul rilancio dell'economia, sul commercio. Non c'è una parola su questo se non il fatto che la tassazione, che l'anno scorso l'hanno aumentato al massimo, quest'anno rimane al massimo, che per i servizi sociali per la prima volta c'è un forte taglio, per la pubblica istruzione per la prima volta in questi anni c'è un forte taglio, non c'è nulla sugli investimenti se non tappare qualche buca, stanno facendo in queste ore le asfaltature che sono quelle che avevamo iniziato noi l'anno scorso e loro avevano sospeso, finite queste non ce ne saranno altre durante l'anno e nei prossimi mesi. E dov'è che trovano i soldi e hanno trovato i soldi per ripianare quei tagli che il governo Renzi ha attuato? Spremendo al massimo le aziende partecipate, Asset Holding, Asset S.P.A., che di per sé è giusto che facciano utili, ma non possono farne utili spropositati, perché è una tassazione occulta, cioè se l'Asset fa troppi utili vuol dire che fa pagare tariffe troppe alte, conseguentemente è una tassazione indiretta. Anche noi, è proseguito Guzzi, abbiamo prelevato soldi dalle Asset anni addietro, ma qualche centinaia di migliaia di euro, loro invece si sono presi 2 milioni e 2. Addirittura li portano via il fondo di accantonamento, il fondo di riserva, cioè sinceramente siamo un po' a una sproporzione di atti rispetto a quelle che sono le situazioni. Poi impegnano tutti gli oneri di urbanizzazione, diciamo non per gli investimenti ma per la spesa corrente, e aumentano le multe da 850 mila euro che erano un anno fa a 1 milione e 300 mila euro. Infatti si vedono i vigili che sono scatenati in questi giorni a fare le multe a tutti. Ecco, mi pare che sia un bilancio di una giunta che all'inizio del suo cammino sembra una giunta che è lì che sta gestendo gli ultimi mesi della sua amministrazione. Grazie. Grazie.